Siamo arrivati alla fine e presenteranno l'ultimo brano del loro repertorio, ci auguriamo che vi siano piaciuti. Noi dal canto nostro li ringraziamo, grazie Erwe e grazie a tutta la bagarre. La terra di Bergamo, vi ringrazio e saluto alla terra d'Alsazia. Grazie! La terra di Bergamo 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 La terra di Bergamo